oggi per prima cosa come aveva scritto su slack ieri andiamo a vedere quello che vi ho messo a disposizione sul portale della dda anzi sul github quindi nella nostra solita cartella dove metto a disposizione il codice quindi nav1 wix troviamo già wix 09 che quella di stamattina e troviamo un esempio in cui ho fatto qualche piccola modifica rispetto a quello che avevamo in aula l'altra volta no ve le ho scritte qui sotto anzi scusato sbagliato torniamo indietro in 0 9 e scorse c'è ritmi qui ho riassunto un po le principali modifiche che adesso vediamo insieme perché ragionando su queste poi ci viene naturale quello di cui dobbiamo parlare stamattina che è il router router lato client quindi questo quello che sarà nell'applicazione web e quello che dovrete fare giovedì in laboratorio tra l'altro ne approfitto per dirvi che giovedì in laboratorio farò tutti i tre slot e li farò tutti io però un po per una coincidenza un po comunque viene bene perché poi c'è la consegna quindi se avete dubbi domande così via che i miei colleghi entrambi hanno delle difficoltà ok ok va bene quindi prima di procedere ci focalizziamo sull'esempio del della lista dei corsi coi voti e proviamo a ragionare su come si sarebbe potuto introdurre la funzionalità di edit avevamo la ad l'abbiamo fatto insieme all'altra volta vorremmo editare le caratteristiche di un corso quindi cambiare il nome cambiare il voto cambiare la data e così via appunto qui trovate i riassunti io apro questi questo file ho salvato tutto quanto in un branch apposta quindi perché stamattina faremo delle modifiche con router quindi se voi andate poi sul week 0 9 forme di tele sono gli stessi file solo che questi rimangono facilmente accessibili e gli altri nel master andranno avanti noi però li andiamo a vedere al viso studio code perché un po più comodo ok va bene quindi ci sono fondamentalmente i suoi gli componenti stessi dell'altra volta è un solo in app è uguale identico ho fatto due file exam form e exam scorso quindi qualcuno i laboratori mi chiedeva come dobbiamo organizzare i files uno per componente uno per funzionalità e così via probabilmente uno per funzionalità la cosa migliore perché se ci mettiamo a fare un file per componente non finiamo più no perché ci sono i componenti di piccoli e così via però i componenti di piccoli di servizio che logicamente stanno insieme a tutto il resto possono tranquillamente stare nello stesso file quindi io qui ho fatto un exam scorso che è la visualizzazione della lista degli esami e poi avevamo il format che comunque componente abbastanza impegnativo perché sono un po di codice c'è così via un po di gestione dello stato eccetera e quindi direi che vale la pena di avere il componente isolato in un file da parte ok è quello che diciamo più tardi questa mattina magari chiamiamo vista quello che corrisponderebbe a un url dell'applicazione comunque dopo lo vediamo diamo un'occhiata alle modifiche che ho fatto allora aspetta anzi facciamo partire facciamo prima partire l'applicazione così vi ricordate come funziona spero che oramai insomma ce la portiamo dietro da settimane comunque quindi c'è il solito pack json npm install se la scaricate non avete la cartella node modules no io questa cosa l'ho già fatta per diciamo cercare di velocizzare questa è l'applicazione come l'altra volta c'è l'add si possono aggiungere i corsi eccetera vi ricordate anche che avevamo fatto un minimo di validazione e adesso torniamo anche su questo aspetto però diciamo facciamo save ok qui serviva ho messo cinque caratteri almeno ok ho aggiunto il corso quello che si faceva un'altra volta in più cosa c'è c'è la possibilità di fare edit quindi c'è il bottoncino edit io lo schiaccio e mi viene fuori il corso sotto c'è anche e quindi se se cambio il nome e altro faccio save mi viene aggiornato il corso quindi non viene aggiunto ma aggiornato quindi posso fare la stessa cosa per gli altri corsi in più c'è una funzionalità che non è semplice da fare diciamo funzionare scusate gioco di parole ma quando io schiaccio su un altro bottone edit succede essendoci comunque il form aperto che cambia il contenuto ok su questo discutiamo per ultima cosa stamattina ok quindi questa è l'applicazione e andiamo a vedere come è stata fatta quindi allora il form è sostanzialmente uguale a quello della settimana scorsa ho fatto qualche piccolo miglioramento nel senso che i controlli sono sempre 4 c'è il codice il corso il voto e la data ho messo il bottone dentro forma perché quindi dentro il tag form perché perché così posso usare il bottone type submit questa è una raccomandazione che vi faccio perché facendo così potete usare l'evento on submit del form per capire quando si vuole salvare l'informazione ma così facendo avete anche la possibilità di usare tutte le caratteristiche già messe a disposizione da html 5 sui controlli del form per esempio avete intravisto prima scritto un codice corto mi è venuto fuori un messaggio io qui ho deciso sbirciando che hanno fatto i colleghi anche diciamo di dire che il codice del corso dovrebbe essere lungo da minimo 5 a massimo 7 caratteri potevo mettere minimo 7 massimo 7 no al politecnico forse sono tutti da 7 se non sbaglio a 5 sarebbe la famiglia però comunque diciamo voglio mettere dei vincoli di questo tipo che sono facilmente esprimibili posso farlo però poi chi me li controlla chi dà un feedback all'utente il feedback me lo dà automaticamente il form html 5 però devo fare in questa maniera nel senso devo gestire l'evento on submit in maniera che il form html 5 faccia la validazione nel momento in cui provo a inviarlo e se la validazione non ha successo mi ferma e mi viene fuori anche un messaggio sul nome del corso ho messo semplicemente require true che vuol dire non posso lasciarlo vuoto ok se lo lascia vuoto non mi consente andare avanti il numero c'era già il resto non ho fatto altre particolari azioni quindi rivediamo cosa succede quindi riparto da zero ricarico la pagina solo per comodità quindi faccio aggiunta io faccio salva senza aver fatto nulla due campi sono vuoti vedete cosa viene fuori no please fill out this field ecco questo è un messaggio fatto dal browser tramite un form html 5 perché ho scritto required su quel form ok io metto adesso ecco cinque cose e mi viene fuori di sotto in ordine diciamo il form html 5 va a fare le sue validazioni sulla base dei vincoli che ho espresso nei controlli ok questa è la validazione html 5 del browser quindi è un po' dipendente dal browser se apro chrome lo stile sarà un po' diverso se apro un altro browser sarà un po' diverso quindi lascio a voi diciamo la la come dire il compito se volete di migliorarla diciamo che noi possiamo in questo momento accontentarci della validazione html 5 se per voi basta ok dico lascio a voi nel senso che c'è la possibilità tramite react bootstrap di andare ad usare dei componenti apposta per mastrare dei messaggi di errore colora la casellina di rosso e tutte queste cose qua però diciamo ci portano a come dire a migliorare l'estetica e non ci portano ad imparare cose nuove sulla logica dell'applicazione per cui eviterei di fare la lezione se siete curiosi per conto vostro così via potete provare però diciamo fondamentalmente non è non è richiesto ok tranne appunto questa validazione diciamo abbastanza di base ok quindi questo che abbiamo visto la validazione html 5 invece ciò che facciamo noi a mano io adesso ho aggiunto due tre if nel nel handler della submission del form e quello che abbiamo già visto l'altra volta quindi il codice del corso non deve contenere spazi questo è un controllo che ho fatto in più ok dove faccio vedere il messaggio di errore io ho deciso di tenerlo in uno stato vi ricordate abbiamo uno stato apposta che una stringa error message qui tengo il messaggio di errore ed è questo ed è qui che l'ho imposto nell'handle submit quindi nell'handle della submission del form vado a fare tutti i controlli se va tutto bene aggiungo l'esame se no invece mi fermo impostando lo stato e lo stato viene visualizzato ok qui potete fare tutti i controlli che volete questi sono solo degli esempi ho cercato di fare dei controlli leggermente diversi da quelli dell'altra volta consentitemi di dire un po più furbi non un po meno banali perché se vogliamo vedere se vuoto o no ci basta il required ok però occhio che anche uno spazio è una stringa valida quindi bisogna stare un po all'occhio no per esempio che sono nome del corso deve contenere i caratteri che non siano solo spazi se io facevo allora chiudiamo questo mettiamo il corso perché il codice sennò mi dà fastidio io cancello tutto metto solo uno spazio di per sé la html 5 me lo valida perché requer c'è uno spazio va bene però devo controllarlo io cosa c'è se volete c'è la validazione tramite regular expression e così via vedrete poi sui manuale online diciamo quando avete bisogno andate a cercare però diciamo volevo farvi vedere due cose che non fossero proprio completamente banali va bene poi scriviamo quello che vogliamo e tutto va la data ecco avevo ancora fatto la data adesso la data che non può stare nel futuro è ma questo diciamo una cosa molto semplice no dei gs avete tutti i metodi after before di fate quello che desiderate ok quindi questo esaurisce un po il discorso del form vado a vedere cosa mi era puntato qui ok ecco non submit ci viene anche utile utilissimo per una cosa che mi fa molto piacere all'esame non dico che non dà punti in più non dà punti in meno ma diciamo ci semplifica il test quindi vi invito a utilizzarla se possibile ossia ci consente di fare la sottomissione del form con l'invio no che è uno dei metodi più rapidi quindi adesso questo forma valida no perché futuro ok quindi io prendo un campo qualsiasi dove ha senso premere via quindi tutti tra nella data se io do invia come se avessi premuto il tasto save quindi adesso do invio e non uso il mouse do invio e viene fatta la submission del form è molto comodo perché quando uno testa diciamo fa prima no che andare a cliccare lo dico per me ma lo dico anche per l'applicazione che un giorno svilupperete perché poi lo farete magari per il cliente per qualcuno che quando prende confidenza con l'applicazione chiaramente cerca di usarla alla massima velocità possibile chiaramente l'invio è qualcosa di molto comodo ok quindi della validazione html5 abbiamo detto riguardo l'editing allora andiamo a vedere l'editing come è stato fatto l'edit l'edit ci sono dei bottoni questi bottoni che sono stati introdotti in più quindi questa è nella tabella degli esami noi in exams course avevamo un componente apposta che era sotto actions in cui c'era solo il trash la cancellazione cestino vabbè ho messo la matita per l'iconina ma l'iconina diciamo al suo come dire non è così importante usate solo delle iconine ragionevoli no perché se non mi date delle indicazioni se non c'è scritto edit e se io vedo un'icona a forma di teschio non so penso che sia un delete non penso che sia un edit no quindi mi raccomando no per non tanto per il big lab dove appunto diciamo il big lab serve più che altro per impratichirvi no per fare la submission dell'esame però all'esame bisogna un attimo avere qualcosa non dico che sia perfettamente intuitiva però insomma sia comprensibile no senza senza troppo sforzo ok quindi ho messo la matitina che il classico diciamo la classica icona da edit e cosa ho fatto ho creato una funzione apposta no edit exam che passa come prop quindi che mi passa l'exam row e che viene creata fondamentalmente qui no quindi dove andiamo a mostrare il form nel momento in cui si mostra si crea exam form io passo come no mi sono perso sbagliato me la mi viene passata da diventa difficile quando uno non guarda il codice per un po edit exam eccola qua edit exam è un attributo in cui io ho messo una call back che fa due cose in realtà avrei potuto scrivere da qui fuori e scrivere function eccetera no però l'ho fatto direttamente qui set exam to edit ex ok cioè uso uno stato temporaneo ho bisogno di uno stato temporaneo per sapere che cosa sto editando perché ho bisogno nello stato temporaneo perché poi devo passarlo al fuor devo passare questa informazione al form per inizializzare i campi cosa c'è di diverso nel form di edit rispetto al forum di ad semplicemente che i campi sono inizializzati e poi l'azione non è un ad e un edit va bene alla fine vel però il bottone è lo stesso quindi io la faccio grano uno stato dizionale che è il l'esame da editare lo tengo in exam table quindi qui mi va bene sì perché lo devo passare al form il form è un componente nel return di exam table quindi sotto la tabella e quindi mi va bene averlo qui vi ricordate non posso passare l'informazione in su nell'albero ma solo all'ingiù quindi la forma è un componente sotto la tabella quindi questa cosa va bene ok quindi chiarito questo aspetto ecco set exam to edit set show form true va bene questo è il solito stato che semplicemente mi visualizza o cancella il forma giusto quindi c'era già l'altra volta premuto ad comprare il form premuto cancela sparisce no se faccio true forse su questo stato di servizio per la visualizzazione quindi devo gestirlo coerentemente qua anche con l'edit no voglio editare qualcosa deve comparire il form ok quindi questo è quanto volevamo dire c'è ancora poi una cosa quindi ho uno stato temporaneo ecco l'iniziali anzi due cose l'inizializzazione dello stato del form decide se mettere qualcosa o no nel nei valori dello stato che corrispondono i vari campi del form quindi andiamo a vedere nel form io nell'inizializzazione code name score date l'altra volta avevo io state virgolette quindi stringa vuota finito è un ad no quindi se un ad non c'è niente ce lo scrive l'utente quello che vuole scriverci se invece un edit vorrei che ci fosse già scritto qualcosa allora posso mettere nello stato iniziale questo qualcosa che verrà visualizzato come valore nel controllo del form quindi se una stringa verrà messa quella stringa se numero verrà messo quel numero se una data verrà messo quella data ok quindi questo è esattamente quello che ho fatto ho messo un'espezione condizionale se exam to edit che è una proprietà che passo e passo di qui quindi ho modificato leggermente o ho messo exam to edit qui in più passa questo stato questo stato vado a verificare se impostato vuol dire che il form di edit allora ne prendo il valore altrimenti se non è impostato riccardo nel caso precedente stringa vuota 18 dei js che la data corrente ok ok quindi ho aggiustato il form l'ho inizializzato semplicemente impostando lo stato iniziale questo ci sta è un form controld vi ricordate cosa vuol dire vuol dire che ciò che sta nello stato è sempre riflessi in quello che viene visualizzate quando l'utente fa un cambio con la on change andiamo a recuperare quello che è cambiato con la on change e lo andiamo impostare nello stato ok quindi c'è questa corrispondenza tra tra lo stato e quello che viene visualizzato nel campo e quindi all'inizio basta impostare lo stato automaticamente viene visualizzato nel campo ok c'è un'ultima cosa la cosa meno intuitiva per fare in modo che i bottoni di edit funzionino anche a forma aperta è necessario dire a react che il componente va ricreato perché perché l'inizializzazione dello stato viene fatto solo la prima volta che il componente viene creato se il componente ancora lì e non viene distrutto e ricreato come succede quando io chiudo e riapro il form react non mi rifà la inizializzazione perché quello stato c'è esiste il componente continua a esistere nessuno lo tocca lo posso toccare solo con la on change cioè l'utente che fa le modifiche ok quindi bisogna trovare un modo react di dire a react che cambia questo modo non l'avevamo visto ve lo dico adesso in realtà serve fino a un certo punto perché con quello che facciamo stamattina probabilmente non vi servirà più perché adottiamo un approccio un po diverso un po più scalabile però c'è la possibilità di passare l'attributo chi che lo stesso degli array a qualsiasi componente se io gli cambio il valore react mi distrugge ricrea il componente non che poi la stessa idea che c'è sotto gli array io dico reato che è cambiato la chiave e lui distrugge ricrea e il componente anche negli array quindi si può usare anche lì fuori dell'array io l'ho fatto qui no nell'exam scorso ho messo un chi devo trovare un valore che sia ragionevole cioè che cambi quando io cambio quello che sto editando ma questo per fortuna ce l'ho il codice del corso se ho fatto tutto bene il codice del corso è unico l'unica cosa è che devo inventarmi qualcosa da dargli nel momento in cui non sto editando ma qualche cosa che non corrisponda a nessun codice corso io qui ho messo no code potete mettere zero null insomma qualcosa non sono sicurissimo che funzioni però diciamo qualcosa che non sia un codice corso ok abbia limitati tra 5 e 7 potete mettere qualcosa di più corto e più lungo insomma quello che volete ok giusto per farvi capire lo tolgo un attimo e poi finiamo con tutto questo discorso lo tolgo un attimo salve vi faccio vedere cosa succede così ci comprendiamo bene ha bisogno del suo tempo chiudiamo queste due finestre che non c'entrano più niente ok quindi io ho l'applicazione di prima no ho tolto il chi cosa succede succede che io faccio edit su information security e va bene la prima volta viene inizializzato lo stato poi vado a fare edit su data science database technology clicco e non mi viene rinizializzato lo stato perché il componente è aperto e al suo stato la you state usa il parametro per l'inizializzazione quindi solo all'inizio ok se io faccio cancel e poi lo riapro invece funziona correttamente ok però devo fare questa operazione non mi piace piacerebbe schiacciare edit e che funzionasse quindi se io rimetto ciò che ho tolto salvo ok ricarico l'applicazione giusto per stare tranquilli schiaccio il primo information security schiaccio il secondo mi cambia il l'inizializzazione perché perché react ha distrutto e ricreato il componente form ok quindi ha fatto rigirare l'inizializzazione di tutti gli stati all'inizio del componente form ok quindi questo componente form ha fatto ha ricreato l'inizializzazione di tutti questi stati ok va bene ci sono dubbi o domande no non sembra ma avete tempo di pensarci durante tutta la lezione se le fate come sempre sono benvenute e andiamo a vedere l'argomento di stamattina è che in parte ci risolverà anche molti dei problemi che stiamo cominciando a incontrare in questa applicazione no tutti questi stati di servizio lo stato di servizio per fare l'edit lo stato di servizio per visualizzare il form e così via non è che sia il massimo della programmazione no riempire di variabili di servizio la codice un po come riempire di flag il vostro codice no 12 possono andare nel momento in cui ne avete 5 6 10 poi a un certo punto non ci capite più niente ok quindi stamattina vediamo la soluzione a questo problema in particolare router ecco qui parliamo del di 6 nel senso versione 6 che è uscita fondamentalmente non da poco come ratti 18 però tra l'anno scorso e quest'anno e quindi ci siamo aggiornati per chi se avesse seguito il corso l'anno scorso sta riseguendo il corso vuole usare il router vecchio io direi non ci sono problemi sono abbastanza simili il principio è lo stesso però l'api è cambiata leggermente l'importante che nel package json ci sia la versione corretta l'abbiate provato con la versione corretta noi facciamo npm install che ci sia il 5 al 6 alla fine a noi non cambia nulla anche perché come filosofia sono identici quindi fate solo appunto attenzione alla versione che state utilizzando perché se la installate adesso da zero vi viene fuori la 6 ok quindi andiamo a vedere qual è l'obiettivo quali problemi vogliamo risolverle e come li risolviamo quindi le applicazioni web sono in generale un po più complicate di quella semplice che stiamo vedendo noi per motivi pratici no perché a lezione non abbiamo il tempo di metterci a sviluppare un'applicazione così complicata da zero mano a mano che andiamo avanti in particolare cosa succede nelle applicazioni vere succede che avete diverse pagine diverse viste e dovete gestire la navigazione tra queste diverse pagine o viste no cosa cambia nel momento in cui cambiate pagina cambia cambia l'url quindi c'era il documento c'era l'url diciamo indice c'era about no chi siamo oppure c'è il prodotto lista dei prodotti il tuo carrello e così via no ci sono mille viste in un'applicazione complicata in questo momento noi abbiamo un unico url l'avete visto cioè qui sopra c'è sempre scritto localostra e milano c'è barra qualcosa non qualsiasi cosa combiniamo editiamo cambiamo cancelliamo aggiungiamo non cambia niente nell'url ok e come l'abbiamo realizzato a forza di flag come abbiamo detto prima c'è il flag per visualizzare il form c'è il flag cioè c'è lo stato per il l'esame da editare così via noi vorremmo una soluzione più scalabile tra l'altro ecco se non dobbiamo ricaricare anche troppo codice ad ogni cambio di pagina ma vedremo che non cambia avremo la pagina e anche meglio no perché comunque adesso noi stiamo lavorando locale ma nel momento in cui avete un'applicazione reale tutte le cose che non sono locali vanno caricate dalla rete quindi si scaricano dati ci bisogna attendere e così via ok quindi noi vogliamo sostanzialmente essere in grado di realizzare un'applicazione più complicata come le classiche applicazioni web che usate qui mi sembra di intravedere nelle slider tipo le schermate di facebook non sono non so se sono le ultime versioni o no comunque diciamo l'idea è poi quella no c'è la pagina su cui arrivate di solito slash no quindi senza un urlo particolare la cosiddetta landing page dove atterrate e poi ci sono delle varie pagine a seconda di quello che fate c'è il vostro profilo dove editate le vostre informazioni ci sono non solo le pagine di altri utenti ci sono le query che fate quindi vediamo le ultime notizie vediamo non so qualsiasi cosa cerchiamo tutti quelli che si chiamano enrico e così via no quindi è l'url cambia di conseguenza ok non avvengono ricaricamenti di pagina questo è un must nell'applicazione web quindi non si va a richiedere una nuova pagina al server web il server web non ci da nuove pagine al massimo ci da informazioni dalla prossima settimana la prossima settimana ci sarà professor science perché non ci sono io vi dice qualcosa sul lato server quindi come configurare cominciare a lavorare su un server web scritto in node per nostra comodità però diciamo cominciare a fornire delle ipi e poi da lì ci agganciamo e creiamo tutta l'interazione client server e saremo in grado di definire per bene la nostra applicazione e avete tutti gli elementi poi che servono per l'esame ok quindi vabbè questi gli schese se li abbiamo detti comunque diciamo spunto su una barra di navigazione clicco mi cambia l'url vorrei che succedesse quello che succedeva nelle applicazioni diciamo così di una volta lasciatemi dire quindi non nelle single page application ma cliccavo sul link si carica una nuova pagina con una nuova vista e così via perché perché comodo perché avere l'url è comodo perché tramite l'url potete anche linkare delle specifiche pagine se le linkate dall'esterno e così via se invece avete un solo localhost 3000 come noi adesso non si chiamerà localhost 3.000 si chiamerà sito pippo.com e c'è sempre solo pippo.com quindi l'unica cosa che fate è arrivare sulla prima pagina se invece avete degli url particolari potete già arrivare che so sulla pagina di un prodotto sulla pagina di un certo formazione di dettaglio e così via ok quindi abbiamo capito la necessità vediamo un po come come andare a realizzare fondamentalmente il router si occuperà di gestire gli url per noi e di gestire questo caricamento e scaricamento delle cose da i componenti react da far vedere in ogni url in ogni vista ok e in più di fatto ci farà funzionare se volete anche diciamo ciò a cui siamo abituati cioè l'avanti indietro nella storia di navigazione anche se questo non raccomandiamo di usarlo però di fatto interagisce con l'api del browser per consentirci di avere una storia di url mentre in questo momento non abbiamo nessuna storia di url perché l'url è sempre solo uno ok quindi a chi piace agli utenti a cui piacerà diciamo andare indietro magari perché uno non sa più cosa fare come tornare indietro prima il bottone back diciamo ci gestisce anche questo caso ok l'applicazione react è configurata in in questa maniera in questo momento per qualsiasi url che mettiamo ci restituisce sempre la stessa applicazione facciamo una prova io metto barra pippo ok mi si carica la stessa cosa barra pluto barra quello che volete ok questo è quello che succede in questo momento ma è corretto perché l'operazione di navigazione nell'url verrà fatta lato client ok e l'app che va a vedere che cosa c'è scritto nell'url e deciderà che cosa mostrare ok solo che anziché farlo noi a mano a forza di stati booleani o no oggetti quello che volete useremo una libreria apposta che ci facilita in questo compito ok quindi che questo che viene chiamato il router ok fondamentalmente il router è una libreria che si accorge quando l'url viene cambiato oppure ha delle api in cui gli diciamo guarda vogliamo cambiare l'url no e decide che cosa far vedere che cosa mostrare dei vari componenti che compongono la nostra applicazione ok dobbiamo come sempre prevenire il comportamento di default del browser perché il browser è un programma che va sempre a caricare dal server nuove risorse quando noi facciamo delle azioni particolari come la sottomissione del form e come il click su un link ok queste sono le due classiche azioni che fa ricaricare la pagina dobbiamo impedire anzi la libreria a questo punto deve impedire queste due azioni e deve prendere il controllo e decidere che cosa mostrare nell'interfaccia del browser quindi nella finestra del browser ok dobbiamo quindi imparare a diciamo a gestire questa libreria per far capire che cosa vogliamo vedere per ogni url prima di tutto ci scegliamo una libreria usiamo questa libreria che si chiama reactor router ok ce ne sono tante tante non lo so però alcune diciamo questa come come sempre noi vediamo un consiglio e speriamo che lo seguite e vi illustriamo l'api di quella che riteniamo essere la libreria in questo momento migliore e più facile più intuitiva da utilizzare ok quindi come si installa npm install reactor router dom perché dom perché perché in realtà ne esistono diverse versioni perché questo problema non è un problema solamente delle applicazioni web react è pensato anche per funzionare per creare applicazioni native per esempio applicazioni mobili e così via chiaramente avrà un'interfaccia diversa per realizzare le viste a un'interfaccia anche un po' diversa per realizzare l'equivalente della navigazione tra diversi url perché poi nell'applicazione nativa non abbiamo l'urlo non vediamo un browser con un urlo ok quindi esiste quella nativa ma mi interessa quella del dom document object model che è quella che si riferisce al browser diciamo dentro il quale vogliamo realizzare la nostra applicazione quindi noi studiamo reactor router dom si porta dietro reactor router come dipendenza che fondamentalmente contiene tutti gli algoritmi gli ux e le cose varie che andremo ad utilizzare ok è integrata questa questa libreria integrata con react un po come react bootstrap integrato con react nel senso che ci mette a disposizione dei componenti già pre costituiti anche qui abbiamo dei componenti particolari che dobbiamo imparare a conoscere e lo facciamo adesso ci sono fondamentalmente questi direi sei sei componenti 5 link navigate root roots e poi il browser router che è quello che ci servirà a dire che l'applicazione usa il router ok e ci sono una serie di ux ok cos'è un po cambiato dalla versione precedente alla sei che stiamo utilizzando adesso e che si sono molto più orientati verso l'uso degli ux peraltro è lo stesso è la stessa cosa che sta succedendo in react l'uso dei componenti che non siano basati su funzioni pure con gli ux ma invece la versione vecchia quella sui class eccetera e non diciamo sta cadendo un po in disuso ci sono le vecchie applicazioni già fatte chiaramente qualcosa sarà già fatto così però fondamentalmente si sta andando verso questa idea di usare gli ux che sembra anche abbastanza come dire intuitiva e diciamo facile da utilizzare e quindi anche queste librerie si stanno adeguando e in particolare questa libreria ci metterà a disposizione tre ux che adesso andiamo a conoscere e che usiamo per fare le nostre operazioni per far funzionare la libreria dobbiamo fare in modo che tutta l'intera applicazione sia frappata cioè racchiusa in un componente particolare che è questo browser router e che ci viene fornita da react router dom ovviamente per il browser quindi adesso vediamo un po di teoria poi andiamo nella pratica a cercare di applicare questi concetti alla nostra applicazione ed è tutto quello che faremo oggi qual è l'idea? l'idea è che io dichiaro le root cioè dichiaro gli url che voglio che la mia applicazione gestisca e una volta che li ho dichiarati dico che cosa voglio che la mia applicazione faccia vedere in corrispondenza di quegli url tutto qui ok? quindi fondamentalmente succederà che all'interno della mia applicazione avrò un componente router che conterrà delle root che vuol dire ognuna delle quali avrà un suo percorso quello che viene fuori qui nella barra degli url ok? che corrisponderà a qualche cosa ok? questo è il link e questa è la root quindi qui c'è la dichiarazione di che cosa voglio vedere per lo slash voglio vedere il componente home per lo slash about il componente about slash dashboard il componente dashboard e poi dovrò essere in grado di navigare su questi url non posso semplicemente avere dei tag A gli anchor, i classici link dell'HTML perché? perché quelli mi fanno ricaricare l'applicazione quindi dicono al browser vai dal server e ricarica la pagina e non va bene no? ho un componente apposta che si chiama link poi avrò anche degli altri metodi che vediamo dopo ma ho un componente link che corrisponde a questo A dell'HTML puro che anziché ricaricare dal server dice al router guarda voglio cambiare url vai a vedere che cosa corrisponde a questo url e carica il componente corrispondente quindi nel momento in cui nella mia applicazione trovo che so un link about a cui è collegato slash about come url il router va a vedere io lo clicco ovviamente il router va a vedere qual è la route che corrisponde a slash about vede che c'è il componente about e mi carica il componente about e quindi visualizzato di questi rimarrà solo il componente about quando arrivo sull'applicazione all'inizio avrò l'url slash e il router mi mostra il componente home ok quindi è un modo come dire automatico per mostrare e eliminare dalla visualizzazione i componenti che io scrivo qui come valore dell'attributo element ok quindi è un po' come se ci fosse un grosso if o switch se volete in cui a seconda dell'url che ho ci sarà uno di questi che viene visualizzato ovviamente poi dentro il componente home about dashboard posso metterci tutto quello che voglio quindi noi ci metteremo che so in home ci metteremo la lista di corsi ci faremo un percorso che so add e ci metteremo il form e così via ok questa è l'idea tra l'altro nella vecchia versione del router c'era esattamente un componente proprio che si chiamava switch quindi era non so se è più intuitivo forse da un punto di vista logico sì però da scrivere era un po' più scomodo per cui sono andati verso questa direzione ok esistono diversi tipi di router noi useremo solo il browser router tanto oramai tutti i browser lo supportano bene è già da tempo c'è anche un altro tipo di router per i vecchi browser ma se non c'è bisogno non usatelo perché diciamo complica solo la vita richiede un pochino di configurazione lato server ma in realtà per noi è già fatta nel senso che il create react app ci ha già configurato il server a posto per questo sistema cioè fondamentalmente qualsiasi URL la mettiamo viene caricata sempre la stessa applicazione ma l'abbiamo già visto prima ho scritto slash pippo e si è caricata la stessa applicazione ok però se poi fate il deploy su un server vero dove dovete configurare voi il vostro server e così via dovete fare attenzione che bisogna fare questa piccola operazione ovviamente dobbiamo importarlo ma questo è scontato come tutti i componenti come facciamo con react bootstrap e così via deve essere racchiudere l'intera applicazione e va bene ok vediamo qualcosa di dettaglio nel senso che abbiamo visto i vari componenti link, root e così via diciamo due parole in più che vi consentano diciamo di apprezzare diciamo le caratteristiche di base e poi piano piano costruiamo la nostra applicazione e poi provate in laboratorio a fare voi quindi a ristrutturare la vostra applicazione in questo senso e avrete finito il biglab 1 ok allora tutto quanto deve essere racchiuso in un componente roots quindi le varie roots è plurale rispetto a prima quindi c'è roots che contiene le varie roots questa è la versione più semplice poi posso annidare in maniera complicata però diciamo cominciamo da una cosa semplice per capirci ogni alternativa di visualizzazione è racchiusa in una root ok come faccio a determinare qual è la root attiva? bene la root con il match più specifico viene visualizzata quindi diciamo è abbastanza intuitivo come sistema nel senso che nella versione vecchia era meno intuitivo e hanno cercato appunto di rendere un po' più facile da usare se diciamo la root è più lunga e fa match uso la root più lunga se la root contiene i parametri ma c'è una root più specifica con un nome che corrisponde esattamente a quello dell'url quella fa match e così via quindi diciamo potete poi andarvi a vedere le varie regole però diciamo noi vedremo due o tre casi semplici che fondamentalmente vi possono bastare per la maggior parte dei casi e poi quando c'è bisogno se avete una necessità particolare andrete a cercare ma sono abbastanza tranquillo che non avrete tutta questa necessità noi svilupperemo delle applicazioni che hanno poche pagine quindi 4-5 pagine con qualcosa di questo tipo e di fatto abbiamo abbiamo terminato diciamo la struttura delle root la root abbiamo già intravisto due attributi principali che sono uno il path che è esattamente l'url che vogliamo che corrisponda a quella root e l'element che è il componente o comunque il jsx che corrisponde a ciò che vogliamo visualizzare su quella root io vi consiglio di tenere un unico componente o comunque poco codice lì dentro perché ovviamente sennò poi diciamo diventa poco poco gestibile tutto il resto del codice quindi se abbiamo un componente per ogni root e poi lì dentro facciamo quello che vogliamo è la cosa migliore quindi viene visualizzato solo quello che fa il best match ok quindi due parole su come funziona il match allora abbiamo una parte dell'url che è statico nel senso sono caratteri che abbiamo scritto appunto users add form edit prodotti e così via testo che abbiamo deciso che ci sta anche sta nel l'url ci sono eventualmente parti dinamiche che iniziano per due punti che hanno quindi meno priorità rispetto alle statiche poi c'è la parte asterisco diciamo che fa il match di tutto il resto ok quindi si usa solo quella più specifica secondo queste regole quindi se noi abbiamo che so users barra 3 che potrebbe essere l'id dell'utente no farà match la prima root perché? perché non le altre perché slash è solo la prima parte non è tutto no qui non c'è una slash users ma neanche lo slash users farebbe match perché c'è una root più lunga che fa match no quindi users barra qualcosa ok direi che sì se per esempio abbiamo ecco facciamo un esempio che so slash about che abbiamo visto prima cosa succede? questa no perché si chiama users questo si chiama docs qualcosa questo si chiama contact us questo è slash e basta slash about non fa match con nulla ok quindi vedremo cosa succede non c'è una root che corrisponde diciamo non verrà visualizzato niente quindi ora ne abbiamo una che corrisponde a tutto vediamo tra un istante è un po' la pagina non trovata che vedete in molte applicazioni oppure dobbiamo un po' fare attenzione gli urli li decidiamo noi è come gli stati dei componenti quindi dobbiamo fare attenzione a non andare a finire su degli urli che non esistono ok ok di default sono case insensitive se li volete fare case insensitive ci sarà un'opzione ma io direi che possiamo trascurare questa cosa fare che ha una minuscola maiuscola corrispondono a due cose diverse se proprio non ne avete la necessità evitiamo perché insomma si crea solo solo pasticcio è possibile annidare le root questo è stato fatto perché ogni tanto annidiamo i componenti no pensate ad un'applicazione in cui avete che so a sinistra facciamo proprio i laboratori i filtri e al centro ciò su cui volete lavorare no questa struttura è comune a tante root no allora l'idea sarebbe quella che ho una root che mi crea la struttura ok più generica e poi ho delle root più specifiche che mi dicono cosa visualizzare in una sottoparte di quella root per questo posso annidare le root questa è una funzionalità proprio nuova della versione 6 che non c'era nelle precedenti perché l'hanno introdotta perché hanno ritenuto diciamo che sulla base dell'utilizzo che si fa di queste root molti scrivono le applicazioni in questa maniera e quindi potrebbe essere utile quindi quando annidate le root fate attenzione mi sa che dobbiamo vedere un esempio perché dire la voce diventa complicato comunque fate attenzione perché c'è questa questione c'è il componente della root più esterna e il componente della root più interna che deve essere inserito in quello del componente della root più esterna ok per decidere dove inserirlo abbiamo un componente apposta che si chiama outlet ok che dice dove il figlio quindi il componente della root più interna andrà inserito in quella più esterna perché poi sono io che scrivo l'html sono io che dico lo voglio a destra lo voglio a sinistra lo voglio in mezzo nel componente più esterno però se non ho un componente per dirvi questa è la roba della root figlio come faccia dire di mettere quello dovrei copiare incollare ma allora non ho più le root annidate ok se ve lo dimenticate ovviamente non si vedrà vediamo l'esempio quindi qui abbiamo un'app ecco nell'app qui non è indicato ma diciamo che l'app va poi ranchiusa tra un browser router perché altrimenti il root non funziona ok però per semplicità non l'hanno messo qui possiamo anche metterlo qui intorno al div va benissimo infatti noi faremo così ok quindi root root slash ok che mi mostra un layout quindi un componente che fondamentalmente mi organizza il resto e poi ho delle root annidate vedete che sono annidate perché queste interne sono chiuse alla fine quella esterna non è chiusa è chiusa qui sotto sotto il box rosso quella esterna mi crea layout e quella interna mi determinerà qual è il componente che viene effettivamente visualizzato dentro quella più esterna ok quindi se io arrivo sull'url slash about avrò un layout con dentro un about se io arrivo su slash dashboard avrò un layout con dentro dashboard cosa fa layout mi fa un div va bene la barra come vi dicevo di navigazione da qualche parte e poi mi mette il componente interno della root quindi questo outlet che se mi dimentico fa sì che non venga visualizzato niente come dicevo sarà o about o dashboard ok quindi nella parte diciamo principale della pagina che hr è una linea orizzontale quindi barra di navigazione linea spazio per il mio componente diciamo principale ci sarà o l'about vabbè che scrive solo about o la dashboard che farà non lo so la lista delle opzioni quello che voglio ok quindi così funziona il meccanismo ci sono anche delle route un po' speciali quindi senza il path index fondamentalmente viene matchata quando le altre non fanno match quindi diciamo una specie di route di default ok quindi in quella struttura di prima poteva avere una route index terza route index se non ho slash about slash dashboard ho questa che mi mostrerà ciò che ha senso da cui ha senso iniziare nella mia applicazione di solito è quello che mostra la route index oppure che so eventualmente proprio un indice delle cose che posso fare insomma qualcosa di questo tipo ok quindi diciamo che sono route che hanno dei casi d'uso abbastanza specifici ma naturali nel senso non ho ancora selezionato niente ci sarà la lista di tutto quello che devo selezionare appunto non ho messo un url che esiste mi dirà attenzione puoi selezionare queste cose e così via ok va bene layout route questa l'abbiamo vista l'anno match ecco può essere interessante se io specifico un path asterisco questo è il path che è la minor priorità di tutti ok quindi fa match solo se non si trova niente altro che è esattamente quello che mi serve per fare il match di tutto tranne tutto il resto che ho specificato e quindi se ho una pagina che non esiste diciamo così quindi un url che non corrisponde da nulla posso fare match con questo e che so prendere un componente e scriverci dentro attenzione la pagina che non esiste riparti la pagina non esiste riparti dalla home link path slash qualcosa di questo tipo ok è quello che vi succede appunto sui siti come dicevo quando per qualche motivo è arrivato un url che non esiste ok quindi ah ecco c'è giusto l'esempio quindi abbiamo esteso quello prima appunto abbiamo index element home quindi se io arrivo con slash e non fa match niente ok mi verrà mostrata la home qui al posto di outlet se invece c'è che so slash qualcos'altro che non corrisponde a niente altro quindi neanche il default il default è nessun path l'asterisco è invece qualcosa che non corrisponde al resto e verrà no match non match non so non l'ha messa comunque potrebbe essere che so diva h2 la pagina che hai scelto non esiste ops tutte quelle cose belle che volete mettere e mettete magari un link alla home per ripartire ok navigazione ci serve il link per navigare perché finora abbiamo detto come descrivere le route come descrivere gli url vogliamo navigare vogliamo fare il link per navigare c'è un componente apposta link che ha un attributo tu che prende una stringa che è l'url al quale voglio andare come ahref qui c'è link tu ok non usiamo mai ahref ok mai nelle nostre spiegazioni non deve mai vedersi direttamente nel gsx perché poi il link tu di fatto dentro va a fare un ahref ma lo fa in modo che intercetta quello che succede aggancia il router e fa in modo che sia il router a gestire la situazione ok però noi scriveremo nelle nostre applicazioni sempre solo link tu se abbiamo bisogno di creare un link oppure c'è la versione hook quindi con una funzione apposta che ci dà un oggetto sul quale possiamo anzi non un oggetto una funzione ci ritorna ritorna una funzione che possiamo chiamare per far l'equivalente del click sul link perché perché se siamo in un event handler noi dobbiamo scrivere codice non possiamo scrivere componenti in un event handler no o un click uguale aperta graffa e poi dobbiamo scrivere una funzione una callback non è che possiamo scriverci un componente lì dentro ok il componente lo scriviamo nella struttura ma è l'utente che clicca nel momento in cui abbiamo un handler dell'altro codice noi decidiamo che per quello che siccome è successa una certa cosa dobbiamo cambiare pagina dobbiamo essere noi a chiamare una funzione e a dire cambia pagina ok il caso tipico appunto è dentro gli event handler allora ci faremo dare da use navigate che è un hook quindi da mettere all'inizio del codice del nostro componente una funzione che possiamo semplicemente chiamare con un parametro che è il nuovo percorso navigate slash add slash edit slash home quello che volete ok e cambia la visualizzazione come se l'utente avesse cliccato sul link che corrisponde a quell'url ok quindi molto semplice never never use plain text hyperlink quindi a non dovete mai usarlo nelle vostre applicazioni eh nel jsx eh perché poi se andiamo a vedere cosa fa come vi ho detto dentro il 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 reactor router quando trasforma il link se aprite nel DOM cosa c'è ci sarà un A però non l'abbiamo scritto noi l'ha scritto reactor router così l'ha agganciato a tutto il resto del sistema ok noi abbiamo il link e lo usiamo lo usiamo come lo useremo con la AHRF però dobbiamo usare questo componente ok esempio eh qui nella nostra barra di navigazione abbiamo due link eh link to slash link to about ok semplicemente se l'utente clicca sul primo si caricherà nell'url slash se l'utente si clicca sul secondo si caricherà about ok tutti i percorsi sono relativi a meno che inizino con lo slash ok quindi vedete un po' voi come come ragionare secondo me nelle applicazioni piccole come credo anche quella vostra all'esame potete anche avere tutti i link assoluti no cosa servono i link relativi che se sta costruendo una sottoparte di applicazione quindi che corrisponde una sottoparte di urla se usate i link relativi posso integrarla più facilmente con tutto il resto dell'applicazione che magari sta facendo qualcun altro non lo so ok vedete un attimo voi come come regolarvi per iniziare forse la cosa migliore è iniziare con i patto assoluti quindi slash quindi avere sempre i link che iniziano per slash 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 about slash invoice eccetera ok perché almeno sapete com'è composto tutto l'url con i link relativi il valore viene aggiunto all'url corrente ok quindi bisogna sempre fare attenzione in che pagina ci si trova che non è così scontato qui a sinistra vediamo la versione link qui a destra vediamo la versione hook che è molto semplice use navigate richiamano tutti use qualcosa eh gli hook di react c'è use state vedremo ci sarà use effect abbiamo già visto use context qui c'è use navigate eh ognuno ha la sua sintassi quindi use navigate non prende parametri e ci ritorna una cosa sola quindi non due una cosa sola che è una funzione e la usiamo navigate aperta tonda nuovo url fine facile questa oggettivamente è facile l'url può essere creato come riteniamo è una stringa quindi come come siamo capaci a processare string in javascript possiamo creare la stringa che vogliamo quindi che so eh facciamo pure l'esempio ragioniamo sul nostro esempio degli esami abbiamo l'edit possiamo fare slash edit slash codice course no eh in laboratorio avete eh il film slash edit slash film id no e così via ok quindi possiamo creare quello che vogliamo ok ecco qui voglio farvi vedere siamo dentro da un submit quindi dentro un event handler ovviamente non è che possiamo mettere link link non ha senso cioè questo non è un pezzo che viene visualizzato no questo è il codice che viene eseguito quando si verifica l'evento quindi deve essere del codice javascript eh link ha senso quando stiamo scrivendo codice jsx quindi parte della visualizzazione ok vabbè c'è anche il nav link oltre il link diciamo eh semplicemente per evidenziare si evidenzia quasi automaticamente nel momento in cui l'urla fa match con il link ok quindi vi può essere utile in una lista in realtà quella della versione vecchia era più carino perché faceva le cose in maniera un po' più automatica qui ha voluto cambiarlo però vabbè eh fondamentalmente vi aggiunge la class active sul componente ok quindi vuoi tramite css tramite questi giochini magari lo fa già bootstrap non lo so dipende un po' vi evidenzia eh diciamo ciò eh su eh l'elemento sul quale che corrisponde all'url nel quale vi trovate ok perché l'inca comunque tu uguale qualcosa no e quindi sa a che cosa corrisponde va bene però questo come dire io lo lascerei un po' da parte che è un po' un dettaglio eh root dinamiche ecco questo è importante io prima ho fatto l'esempio eh edit barra codice corso oppure eh c'è il film edit barra id del film no dobbiamo essere in grado di gestire queste root abbiamo intravisto il meccanismo qui lo vediamo bene se noi scriviamo una parte dell'url che inizia con due punti questi due punti significa che ciò che segue è una parte parametrica dell'url cioè è un qualche cosa che può cambiare e ciò che segue è il nome che noi diamo a questa parte che poi agganceremo nel codice ok quindi è un po' come se fosse il nome di una variabile ok io non scriverò proprio due punti di nell'url scriverò un numero un codice una sequenza di caratteri e così via che però poi con un meccanismo mi ritroverò nel codice quindi posso utilizzarlo per fare le mie operazioni no come edit 3 so che 3 è l'identificativo del film che voglio editare no quindi me lo ritroverò lo aggancio in maniera semplice nelle mie operazioni quindi scrivere la root è facile basta identificare una parte di questa root mettere i due punti davanti e decidere il nome della variabile tra l'altro notate che poi la root può anche continuare quindi può anche essere slash due punti qualcos'altro eccetera quindi possono anche essere più complicate cominciamo da una cosa semplice due punti di due punti name due punti code quello che volete ecco la parte parametrica è disponibile negli elementi quindi nei componenti tramite guarda caso un altro hook si chiama use params ok use params ci ritorna un oggetto che contiene parametro due punti il valore che effettivamente ha nel parametro nell'urlo scusate il valore che il parametro ha effettivamente nell'urlo ok quindi questa scrittura funziona perché tirate fuori dall'oggetto solo il valore della proprietà id e id è esattamente quello che avete scritto qui nell'urlo della root ok mi raccomando le due cose devono coincidere root qui path post id in post potete estrarre la parte parametrica con questa scrittura ok forse ce n'è anche una più ecco qui qui vedete in questo esempio se non vogliamo fare come dire scrive del codice javascript troppo criptico ma spero che al vostro livello oramai non sia così criptico no useparam ci da un oggetto l'oggetto delle proprietà no le proprietà sono i nomi dei parametri che abbiamo usato negli urlo con questa scrittura a sinistra che è esattamente equivalente estraiamo direttamente il valore della proprietà trascurando l'eventuale resto che c'è nell'oggetto quindi ci risparmiamo due parole ok quindi è semplicemente una scrittura più compatta per fare ciò che c'è qui a destra ok niente di particolare questo è javascript standard niente di particolare del router potete usare in qualsiasi contesto quindi qui direi che non c'è niente da dire tranne le root child quindi se le annidate avete a disposizione i parametri anche negli elementi figli ma insomma quindi prendiamo un url parametrico questo barra invoices barra parametro invoice cd che può essere quello che volete non è detto che siano numeri numeri lettere quello che volete quindi tutto ciò che segue invoices verrà preso e messo dentro invoice id e ce l'avete a disposizione ne fate cosa volete qui ovviamente sulle slide più che visualizzarla non facciamo ma nella vostra applicazione magari lo prendete lo passate a una funzione che va sul server a caricare le informazioni di quella invoice di quella fattura di quella di quell'elemento prodotto e così via ok bene ultimo sì direi quasi ultimo è possibile passare dell'informazione tra una pagina e l'altra ok quindi tra un url e un altro un po' come abbiamo avuto bisogno di fare questa mattina con lo stato di servizio che era l'esame da editare ricordate io vi ho detto c'è l'esame da editare dove lo mettiamo lo mettiamo in uno stato perché lo mettiamo in uno stato perché se abbiamo un'unica pagina più che lo stato non abbiamo se invece abbiamo diversi url questa è un'informazione che non abbiamo bisogno di tenere proprio in uno stato di un componente ma dobbiamo semplicemente passarla da una pagina all'altra cioè lo devo passare dalla lista dove c'è il bottone edit al componente del form che è un altro url un'altra pagina eccetera il router ci consente di passare questa informazione ok perché perché nel browser object model c'è un campo apposta che si chiama state ok che può contenere dell'informazione di servizio ok in realtà a noi non interessa che sia nel browser object model a noi interessa che il router ce lo metta a disposizione ok con un un ulteriore hook che è l'ultimo che vediamo che si chiama use location use location ci dà accesso alla location del browser cos'è la location è l'url correntemente visualizzato più tutte le informazioni associate a quell'url ok è è un è un oggetto nel browser object model c'è un oggetto che avete a disposizione in qualsiasi browser e quello che abbiamo visto all'inizio del corso no in window punto location ci trovate l'url corrente ok però ci sono anche altre cose appunto una cosa che possiamo trovarci è un'informazione aggiuntiva come questo stato come facciamo ad agganciarlo lo agganciamo con questa use location un hook fornita apposta dal router perché ce lo fornisce il router ma perché il router sta gestendo gli url quindi è meglio passare per il router perché se non passiamo per il router rischiamo come in react di andare a toccare il dom mentre react vuole cambiarlo no e qui la stessa cosa noi non dobbiamo accedere direttamente alla location del browser facciamolo tramite il router così il router ha il controllo di tutto quello che succede ok ok quindi questo è il modo di usarlo ed è molto semplice no use location di nuovo nessun parametro ci ritorna un riferimento ad un oggetto che ha un punto state dentro il quale troviamo ciò che ci abbiamo messo come facciamo a metterlo che è l'ultimo pezzo che ci manca ci sono due modi se abbiamo il navigate quindi siamo in un event handler abbiamo bisogno di cambiare url usiamo navigate il secondo parametro opzionale è un oggetto che contiene stato due punti in cui possiamo mettere stato due punti e il valore che ci interessa una stringa un numero un oggetto se invece siamo in un link e vogliamo passarlo da un link c'è un secondo attributo che si chiama state uguale in cui di nuovo mettiamo l'informazione che desideriamo questa ce la ritroveremo nel nuovo componente caricato quando cambia l'urlo in location punto state ok tutto qui l'unica cosa occhio di non passare oggetti troppo complicati perché gli oggetti sono serializzati come stringhe e io stavo facendo la prova ma anche i miei colleghi abbiamo fatto diciamo nel fine settimana provavamo a rifare l'esercizio con le root no e volevamo passare questo exam no da editare c'era l'oggetto dei js che ci faceva un po' dannare no perché perché in realtà gli oggetti vengono serializzati cosa vuol dire serializzati trasformati in stringhe no solo che quando poi vengono ricaricati si perde l'informazione su quale oggetto era quindi non ci sono più i metodi dell'oggetto e quindi se lo fate dovete o trasformarli voi in stringhe così siete sicuri di quello che state facendo oppure fare molta attenzione a cosa combinano i browser e di fatto ricreare l'oggetto data con tutti i suoi metodi no format e così via per farlo funzionare correttamente quindi è possibile usarlo se avete dell'informazione semplice da passare va bene se avete l'informazione complessa fate attenzione ok noi oggi se non abbiamo necessità penso non usiamo questo tipo di passaggio anche perché questo passaggio non si vede sulla url questo queste informazioni di stato che passiamo non viene vista sulla url è una cosa interna del browser ok invece se abbiamo un url parametrico chiaramente questo si vede perché perché l'url è così in voice slash qualcosa è lì è lì l'informazione solo che quella informazione che è lì non può essere troppo complicata non posso metterci degli oggetti complicati no ok va bene ecco ultima cosa ogni tanto la necessità di avere dei cosiddetti parametri di ricerca gli url sono composti da una parte diciamo iniziale punto interrogativo dei parametri di ricerca questi parametri questo punto interrogativo con i parametri di ricerca sono opzionali ma sono come dire standardizzati ok e si usano soprattutto quando dobbiamo andare ad esprimere delle delle query delle richieste nel vecchio html verso il server nelle nostre applicazioni sarà sempre verso la nostra app ok cosa hanno di diverso questi parametri rispetto a prima questi parametri diciamo sono semplicemente la versione standard che viene prodotta dalla sottomissione di un form ok quindi se io ho un form con un campo sort con un campo filter quindi name uguale sort name uguale filter faccio submit un form automaticamente mi creerebbe questo url ma noi non possiamo farlo così perché abbiamo detto che il form non vogliamo che sottometta niente al server quindi se ne abbiamo bisogno usiamo semplicemente questa sintassi perché perché è standardizzata standardizzata nel fatto che inizia per punto interrogativo quindi tutto ciò che c'è dopo il punto interrogativo non fa più parte dell'url che mi serve per fare il match di dove si trova la pagina quindi le roots nel nostro caso o la pagina nel caso del server e sono parametri ok quindi punto interrogativo e poi i vari parametri separati dalle commerciale e poi ci sono tutta una serie di regole per gestire spazi e caratteri speciali eccetera a noi interessa solo che questi sono facilmente gestibili con un ulteriore come si chiama hook ok use search params che non è use params use params è quello per l'url parametrico due punti di due punti qualcosa use search params invece gestisce questo tipo di url quindi ciò che viene dopo punto interrogativo ok semplicemente diciamo ci fanno ci fa la cortesia di fare automaticamente la divisione dei vari nome uguale valore in questo tipo di urla ok quindi se noi lo creiamo per qualche motivo e ne abbiamo bisogno di crearlo per qualche motivo abbiamo una funzione che ce lo processa automaticamente tutto qui ok per quale motivo vorremmo creare un url di questo tipo piuttosto che dell'altro beh perché non sempre è facile creare degli url parametrici qui non c'è il nome di quello che io sto cercando qui dopo è scontato che dopo invoices venga l'id ma se io ho 4 o 5 parametri magari vorrei dire nome uguale valore per distinguere le varie cose che so avete che so nome cognome indirizzo telefono ho fatto una ricerca di questo tipo potrei anche esprimere slash 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 ognuno due punti nome due punti cognome e se c'è lo slash da qualche parte in una di questi caratteri diventa un pasticcio invece questo sistema è molto più flessibile perché è stato fatto per sottomettere il contenuto dei formi in cui ci si poteva scrivere quello che si voleva ok questo discorso ci porterebbe un po' distante su come creare gli url qualcosa lo diciamo però diciamo per ora ci manteniamo semplici perché a noi gli url servono più che altro come struttura di navigazione della pagina quindi arriviamo alla fine e poi proviamo a ragionare su come impostare l'applicazione e poi lo facciamo nella seconda ora e nella seconda ora e mezza le modifiche ok quindi volendo riassumere il discorso sul router tutto varrà chiuso nel componente del router se no non funziona nulla quindi dentro browser router c'è l'applicazione abbiamo le roots dentro le quali mettiamo le root senza la s che hanno un percorso quindi un url e gli elementi da visualizzare i componenti se le facciamo anidate c'è l'outlet va bene se abbiamo bisogno di navigare su queste root quindi fare dei link che arrivino a questi url usiamo link eventualmente con il nav link per l'attivo eccetera o ce lo use navigate o il navigate ma questo lo lasciamo perdere non l'abbiamo nominato è applicato per compatibilità con la roba passata e poi se dobbiamo gestire i parametri abbiamo use params per le root dinamiche quindi per prendere il pezzettino due punti di due punti qualcosa per poterlo usare per decidere la visualizzazione use search params se abbiamo questi parametri diciamo così un po' più avanzati quelli con il punto interrogativo oppure location per agganciare lo stato se abbiamo passato degli elementi come è stato quando abbiamo navigato da una pagina all'altra questo è il riassunto del router ok quindi è tutto ciò che dovete avere a mente a questo punto se non ci sono domande parliamo solo che si stiamo registrando ragioniamo un altro un attimo sulla nostra applicazione ok allora partiamo da zero togliamo qui non c'è pippo ma c'è localhost 3000 slash non è scritto ma è sottointeso se io metto slash si carica la stessa applicazione abbiamo detto è già tutto configurato in maniera che qualsiasi urlamento si carica la nostra applicazione ma in realtà io non vorrei mai ricaricare la mia applicazione quindi quello di per ogni url si carica la stessa applicazione è solo uno scrupolo ok o un modo di consentire l'accesso a qualsiasi url da fuori no perché io nella mia applicazione parto sempre da slash da localhost 3000 ok nella mia applicazione ho una vista che è questa non ci piove no arrivo e c'è la lista degli esami quindi sicuramente c'è un momento in cui visualizzo la lista degli esami come la vostra lista dei film no per il laboratorio e poi e poi voglio fare delle azioni no ho implementato l'azione di add che mi visualizza il form in realtà io l'ho fatto per comodità qui sotto di visualizzare il form ma di per sé la lista a questo punto potrebbe anche sparire no quindi io potrei tranquillamente avere una vista di aggiunta che mi visualizza il form con un bottone aggiungi o cancella vabbè save diciamo cancel se cancel torno alla visualizzazione della lista ok e poi ho la questione beh il delete in realtà la vista è sempre la stessa sparisce si aggiorna la lista quindi non c'è granché da fare dal punto di vista della vista l'edit l'edit mi fa di nuovo comparire il form in una situazione un po' diversa quindi fondamentalmente ho due viste ho la vista della lista e la vista del form ok se voglio posso fare un form un po' più dettagliato nel senso che ho un form vuoto o un form che edita qualcosa e volendo posso dire che edita qualcosa e dire che cosa un po' come ho fatto prima invoice invoice id cioè prodotto identificativo prodotto quindi volendo potrei avere una una root quindi un url che mi dice guarda edita il corso 01 sqjov edita il corso non so che numero abbia ecco 04 gsp eccetera ok oppure posso semplicemente dire barad quindi add forma vuoto quindi forma vuoto ok o chiaro come navigo tra le varie root quindi tra i vari url parto dall'inizio se faccio se voglio andare sull'aggiunta devo avere un bottone un link qualcosa che mi porti al barra add quando faccio cancel devo avere di nuovo un link un bottone qualcosa che mi porti barra e basta o barra home insomma chiamiamolo come vogliamo però alla lista se premo un bottone di edit devo avere qualcosa un link un bottone adesso vediamo come farli che mi porti a barra edit e se lo voglio fare parametrico cosa che io suggerirei di fare perché è la cosa più intuitiva all'inizio un barra edit barra un identificativo che mi dica cosa editare ovviamente devo aver poi modificato il mio form in maniera che dato l'identificativo mi carichi tutta l'informazione che serve per inizializzarlo perché se no avrei solo il codice non avrei tutto il resto perché quello che c'è nell'url è il codice ok o potrei passare lo stato ma come vi dicevo è una cosa più complicata se abbiamo tempo lo facciamo se no non è il massimo perché appunto uno stato interno che gira nell'applicazione non è che mi piaccia tanto in più a questo piccolo problema della serializzazione appunto che da un attimo da verificare da fare attenzione anzi verificare abbiamo già verificato quindi non so avete dei dubbi delle domande delle idee alternative su come ristrutturereste questa applicazione per fare per farla diventare un'applicazione in cui usiamo diurla vi è chiaro a tutti perché vogliamo usare diurla vogliamo usare diurla perché stiamo cominciando a farla diventare un po' troppo complicata c'è una stato di servizio che serve a mostrare forma c'è un altro stato di servizio che mi serve a editare un esame quindi a passare l'informazione su quale esame devo editare e così via spero vi anticipo sarà così che con gli url la struttura dell'applicazione diventi più semplice più logica ok quindi ho un url che si occupa della lista ho un url che si occupa dell'aggiunta un url che si occupa dell'edit ok chiaramente l'esempio è semplice qui possiamo dire tutto quello che vogliamo ma sono tre root finisce lì nel momento in cui arrivate all'esame magari avete 5-6 root senza avere le root comincereste a faticare dovreste avere un componente che si occupa solo sulla base dello stato di che cosa far vedere a chi ok e quindi chiaramente le root ci servono perché ci semplificano l'organizzazione del codice un po' come se chiedessi di scrivere tutto il codice su un unico file è chiaro che si può si può tutto però poi la gestione la manutenzione capirci qualcosa diventa difficile ok allora io se non ci sono dubbi o domande farei pausa facciamo 10 minuti di pausa e poi ci dedichiamo a modificare questo esempio mi raccomando se avete delle idee ditele perché siamo qui per valutarle insieme non ci sono idee sbagliate io propongo una possibile soluzione ok ma se qualcuno ha delle idee alternative mi raccomando ditele va bene facciamo pausa stop hop va bene